Ben ritrovati nell'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, seconda giornata del meeting internazionale del Trotto e del Galoppo. Importanti ospiti internazionali hanno già effettuato il campionato finale per quanto riguarda il team dei guidatori. Adesso si ci è in procinto di partecipare a quello che è stato il consiglio della WIM, poi ancora domani la finale del campionato dedicato ai Fantini. Domani 8 dicembre giornata sicuramente più importante delle altre perché si festeggia anche quella che è la celebrazione di un Ippodromo che è cresciuto dal 1995 ad oggi così come è cresciuta la passione sul territorio. Sabato 7 dicembre è una giornata con tre condizionate, una seconda Tris, una Tris Quarte Quintè in chiusura con eventi collaterali, le tre batterie dei Quarte Rors che scenderanno in pista per acciuffare quelle posizioni e arrivare quindi nelle due semifinali e finalissime di giorno 8. E ancora con gli Artigli del Re che ha portato esemplari di rapaci e uccelli notturni che sono veramente bellissimi da vedere. Quindi tutto un pomeriggio dedicato alla valorizzazione dell'Ippica, partiamo dalla prima corsa, il premio Tirac, una condizionata sul doppio chilometro in pista sabbia con cavalli di due anni impegnati, non corre il numero uno, Big Rob, restano in cinque. È entrata anche on the floor e va a completare così lo schieramento della prima prova dall'Ippodromo del Mediterraneo. Partiti. Partiti i protagonisti del premio Tirac, due anni al via sul doppio chilometro della pista piccola. Ed è Fiore Rosa che si assume l'iniziativa nei confronti di Mister Guida che galoppe ai fianchi, quindi on the floor, a largo Notte d'Amore, a chiudere il gruppetto Havana Rock. Con i cavalli così che dopo aver transitato davanti alle tribune affrontano la prima piegata. È Fiore Rosa che conduce sempre nei confronti di Mister Guida che galoppa al suo esterno, quindi a largo di tutti progredisce Notte d'Amore, lungo lo steccato si mantiene on the floor. E a chiudere il gruppetto, sempre Havana Rock, con i cavalli che affrontano così la retta opposta. Cavalli schierati in fila indiana con Fiore Rosa che mantiene sempre l'iniziativa nei confronti di Mister Guida, quindi a seguire la coppia formata da Notte d'Amore e on the floor e in coda, a contatto Havana Rock. Cavalli che vanno al completamento della retta opposta all'arrivo e così si affronta la piegata conclusiva, con Fiore Rosa sempre al comando. All'inseguimento Mister Guida, a largo, progredisce sempre Notte d'Amore, quindi a contatto Havana Rock, lungo lo steccato, c'è on the floor con i cavalli che così completano la piegata e affrontano la retta di arrivo. Si comincia ad accelerare con Fiore Rosa richiesto, Mister Guida sempre a impensierirla, quindi ancora Notte d'Amore, allargoci Havana Rock, lungo lo steccato, on the floor. Siamo a metà della retta d'arrivo con Mister Guida che è passato al comando e cerca di allungarsi, rilancia la rimonta Fiore Rosa e Havana Rock dall'esterno, ma il palo è ormai vicino e Mister Guida ha fatto bene i conti e in totale controllo viene a imporsi su Fiore Rosa, quindi Havana Rock. Favorita al bersaglio Mister Guida, 1,95 la quota del portacolori di Giussi Guida, il training di Sebastiano Cannavò, in sella Giuseppe Cannarella. Facile al bersaglio nei confronti di Fiore Rosa, quindi al secondo posto e al terzo Havana Rock. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, linea che torna alla regia. Bene, siamo con Giuseppe Cannarella, non demorde mai Mister Guida, ha dimostrato sempre di essere pronto per ogni campo partenti. Sicuramente pronto per fare 2000 metri e oggi finalmente ha corso nella sua distanza e ha dimostrato quel che vale. Ultima parte di dirittura facile. Sì, ma poi lui è un cavallo molto vigro, non fa vedere mai quando vale. Prendiamo la linea dal paddock delle premiazioni, giusto per presentare quello che sarà il programma di oggi. Dopo la seconda corsa ci sarà già la prima, veramente la seconda, visto che Eris è fatta la prima eliminatoria del Quartor Horse. Questo cavallo particolare veloce sul quarto di Miglio, accanto a me Maria Purità, una presidentessa di un'associazione che tanto ama i cavalli, tanto li promuove, tanto li valorizza. Arte e questre soprattutto, ma ben altro, visto che oggi siamo qui all'ippodromo. Intanto ieri com'è andata? Soddisfatti della prima giornata qui all'ippodromo? Soddisfatti veramente. Ci riproponiamo oggi con tre gare, abbiamo altre tre batterie da sei cavalli ciascuna. Voglio puntualizzare il cavallo. La particolarità qui all'interno dell'ippodromo? Corse, quarter, horse. Per la prima volta qui all'ippodromo. Abbiamo concorso a giugno e siamo di nuovo qua. Il cavallo per eccellenza, sappiamo che nasce da un'accoppiata, cavallo Mustang e puro sangue e da lì nasce il Quartor. Nato nell'Ottocento come cavallo da lavoro, veniva utilizzato proprio in America dai cowboy per andare a raccogliere proprio questa mandria di mucche. Oggi lo rivediamo qua come cavallo sportivo e per la prima volta qui all'ippodromo del Mediterraneo. Abbiamo già visto la prima eliminatoria, Ignazio Larosa, Carmelo Emmolo e Davide Emmolo che si sono acciuffati una delle due semifinali. Oggi i primi tre passeranno, poi una finalissima con ben 11 soggetti al via. Il primo tra questi lo ripeschiamo in modo tale che creiamo anche un po' di suspense per quanto riguarda le semifinali e finali di domani. È una manifestazione che teniamo il 2 giugno, che abbiamo voluto anticipare all'8 di dicembre e tanto troviamo entusiasmo tra le persone che vi partecipano. Abbiamo fatto un bel regolamento, abbiamo richiesto tutti i documenti necessari, adesso c'è soltanto da divertirsi e da trovare anche un modo per essere veramente obiettivi ed equi. I commissari ce li abbiamo, le telecamere pure e quindi dobbiamo soltanto farci baciare da questo sole di Sicilia. È stato anche un modo per riunire questi cavalieri che sono venuti da ogni parte della Sicilia. Io li ringrazio veramente perché sono venuti con il gioco, con l'ironia di divertirsi insieme e magari, perché no, conquistare il primo posto di questa categoria. Ecco, un primo posto che verrà un pacchetto al nostro hotel Eureka Palace insieme con il centro benessere è comunque la soddisfazione di poter correre su una vera pista dell'ippodromo di Siracusa. Seconda corsa del premio Teofane, una bella condizionata, 1500 metri di pista piccola da affrontare con cavalli di tre anni e oltre. Non corre il numero tre, restano cinque al via. E così entra anche Murdanova e si va a completare lo schieramento di partenza. Partiti i protagonisti del premio Teofane con Murdanova in lotta per la leadership a Infrarosso per linee interne Dream Painter, quindi Balli Mountain e Rich Mountain a chiudere il gruppetto. Con i cavalli che adesso affrontano la metà della retta opposta alle tribune. Allora il leader del gruppo Murdanova, insediato dall'esterno da Infrarosso, quindi per linee interne Dream Painter, a fianco Galoppa, Balli Mountain e in coda c'è Irish Mountain. Con i cavalli che vanno verso il completamento della retta opposta, così si affronta la piegata. Murdanova che mantiene sempre l'iniziativa nei confronti di Infrarosso, insidioso dall'esterno, quindi Dream Painter in terza posizione per linee interne e viaggio a Balli Mountain a chiudere il gruppetto sempre a Irish Mountain. Così si va a completare anche la piegata e allora ci si prepara ad affrontare la retta d'arrivo con Murdanova in evidenza nei confronti di Dream Painter per linee interne, quindi al centropista richiesto Infrarosso. Ai fianchi Galoppa anche Balli Mountain e Irish Mountain, siamo a metà della retta d'arrivo con Murdanova richiesto da Antonio Cannella. Ci prova Dream Painter, ci prova Balli Mountain, cala sul finale Infrarosso e siamo ai 200 metri dal traguardo. È un testa a testa tra Dream Painter e Murdanova, Murdanova, Murdanova che probabilmente respinge Dream Painter. Bellissimo testa a testa tra i due soggetti più seguiti al totalizzatore. Rivediamo le immagini grazie alla nostra regia con Antonino Cannella che proprio sul traguardo respinge Dream Painter arginandolo al posto d'onore. Quindi successo per il favorito Murdanova, 1,94 la quota sul vincente, i colori sono della scuderia Cusceri, il training e la monta di Antonino Cannella per un ordine numerico ufficioso che vede al primo posto il numero 6 di Murdanova. Siamo con Antonino Cannella, Murdanova si è comportato bene, era riduce da un secondo posto in handicap principale, è positivo nel periodo. Sì, il cavallo sicuramente 1.5 pista piccola l'aiutano tanto, oggi c'è la prima chance e si è confermato. Dream Painter era l'avversario battuto fin sul palo, emozionante. Sì, perché Dream Painter è un cavallo che sta crescendo tanto e infatti abbiamo fatto tutti e due l'arrivo. Grazie a signor Murgo e alla scuderia Bordellino che si è organizzata questa manifestazione, si mettono un accanto all'altro per la presentazione del pubblico. Iniziamo allora dalla maglietta bianca di Salvatore Bellamacina con Miss Snape Olli. Ecco l'alzare la mano. Ancora il giallo di Alessio Lo Giudice con Baby Cool. L'applauso scatta anche per Salvatore Nuzzo con Sansone e lui la maglietta in verde. Dunque la maglietta viola di Giovanni Di Quattro con Nuvola, un bel esemplare grigio di Quarte d'Ors. Ancora la maglietta azzurra di Fabio Emmolo su Biscotto. Saluto al pubblico e allora scendiamo, manca uno, manca il rosso inquadrato, chiedo alla regia di andarlo a cercare con la telecamera. Alessandro Di Kunta con Rocia Executive. Eccolo qui. E allora scendiamo giù, scendiamo giù, velocemente Salvo Murgo, porta lì a quella che è la partenza in pista sabbia e poi vinca il migliore. Velocemente alla partenza, chiediamo la collaborazione di Salvo Murgo. 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 I cavalieri sono particolarmente emozionati, stamattina li abbiamo visti, erano particolarmente entusiasti di affrontare quella che è comunque il pubblico, le telecamere, la pista dell'ippodromo di Siracusa, non sono abituati i cavalli a partire con le gabbie e quindi partiranno con un countdown 54321 insieme, cercando di mantenere il passo, giusto perché sono cavalli, quarte rorse, che non sono abituati a partire come i prosangue inglesi. Si danno le ultime indicazioni proprio perché più obiettivamente possibile ci cercherà di dare il via a questa seconda batteria e capire chi poi dei tre possa passare in finale. Speriamo vada sempre tutto bene e vinca naturalmente il migliore, l'anno scorso è stato bellissimo la vittoria di D4. D4 l'anno scorso è stato il primo classificato, oggi non è presente perché si trovava fuori per una vacanza, sicuramente ci seguirà anche da lì. Siamo pronti, la S di spettacoli equestri si occupa non solo di corse ma anche di spettacoli con cavalli andalusi, con frisoni. Voglio ricordare che il cavallo quarter horse, come si suol dire il cavallo di quarto di miglio, è abituato, lo utilizziamo più per il reining o il barril. Per la prima volta quest'anno, a giugno adesso, a correre in un ippodromo dove ancora non era vista questa figura. Speriamo che sarà apprezzata tanto da voi, io la vedo molto molto forte anche da tutti i cavalieri, una cosa apprezzata, c'è stato il gradimento anche da parte di molto pubblico, persone che sono venuti anche da Messina per partecipare. Ci sentiamo soddisfatti e speriamo di rivederci anche in un futuro in questo contesto, in questa disciplina, diciamo che è il cavallo quarter horse all'interno di un ippodromo, in una pista dove corrono i cavalli puro sangue. Ci siamo, si sono fermati dinanzi a quella che è la tornata di pista sabbia, da lì partiranno tutti schierati l'uno accanto all'altro, cercando di ottenere lo stesso passo in modo da permettere una partenza in movimento più semplice per tutti. E poi scatterà la bandierina per poter posizionare e definitivamente dare il via. Bandiera in mano allo stesso Salvo Murgo, siamo pronti per la partenza, sono allineati. Via! Scattata la seconda eliminatoria, subito avanti Alessandro Di Kunta con Roca Executive, ma passa il giallo di Alessio Bebi, mentre dall'esterno prova nuvola a fuggire con Giovanni D4. Sembra Bebi Cool con Alessio Lo Giudice, sembra Bebi Cool con Alessio Lo Giudice, benché gli altri provano ad insediarlo. E allora è Alessio Di Giudice con Bebi Cool, il verde di Nuzzo Salvatore con Sansone, e ancora il viola di Alessandro Di Giovanni D4 su nuvola. Ripeto la vittoria di Alessio Lo Giudice con Bebi Cool, maglia gialla, rispetto a Salvatore Nuzzo con Sansone, maglia verde, ecco il replay. Quindi nuvola con Giovanni D4 con la maglia viola. Alza le mani in cielo Bebi Cool e Alessio Lo Giudice per poter vincere questa eliminatoria. Bella la corsa, questi 400 metri vissuti, addirittura ferma Sansone, Salvatore Nuzzo prima del traguardo, tanto e avanti. E ancora nuvola con Giovanni D4, bellissimo da vedere peraltro un quarter horse grigio, sulla pista del Mediterraneo con la maglia viola. E l'applauso scatta mentre ritornano indietro, visto che si sono messi in gioco questi quarter horse. Bene, siamo giunti alla terza corsa, il premio Tommy Way è un handicap sui 2.000 metri sul doppio chilometro in pista sabbia, 12.100 euro da affrontare appunto di Montepremi per cavalli di tre anni e oltre. Sono sei i soggetti al via aperti dal numero uno di Surf Fortress. Partiti i protagonisti del premio Tommy Way, handicap per anziani sul doppio chilometro della pista sabbia. E Ottawa, che è in leggero vantaggio nei confronti di Surf Fortress, che viaggia per linee interne ai fianchi di Surf Fortress e Playful Dude, a largo Macho Guest e a seguire la coppia composta da All Me Distant e Stick Around, con i cavalli che adesso vanno ad affrontare la prima piegata. Ed è Ottawa a condurre il gruppetto, seconda posizione stazione Surf Fortress, quindi Playful Dude, a largo progredisce Macho Guest, ancora All Me Distant e Stick Around, con i cavalli che sono già in retta opposta, ed è Ottawa a mantenere l'iniziativa nei confronti di Surf Fortress, sempre in seconda posizione, quindi Playful Dude, a largo progredisce sempre Macho Guest, quindi Hold Me Distant e a chiudere il gruppo Stick Around, quando non cambiano le posizioni, anzi adesso è Playful Dude, che dall'esterno insiste e tende a passare al comando, quindi Playful Dude, Surf Fortress, Cala Ottawa, quindi Macho Guest ancora Stick Around vicino a All Me Distant, a chiudere con i cavalli che sono oltre la metà della seconda piegata, e allora si preparano in questo istante ad affrontare la retta di arrivo dal centro pista, si presenta Bene Surf Fortress attaccata da Playful Dude, quindi Macho Guest dietro, cerca di risalire anche Stick Around, quindi per linee interne All Me Distant e Ottawa, siamo ai 400 metri dal traguardo con Surf Fortress che è passato al comando, Mano alla frusta anche per Antonio Cannella sul Playful Dude, quindi Macho Guest lungo lo steccato, scivola Stick Around, si va nella fase finale con Surf Fortress che li mette tutti dietro e respinge anche l'attacco finale di All Me Distant. Quindi successo per Surf Fortress, Andrea Mezzatesta in sella al portacolori della signora Bosco, domenica grazie, il training di Salvo Gianni, 4,21 la quota di Surf Fortress che viene a imporsi su Stick Around dall'ottimo rush finale, quindi al terzo posto il numero 3 di Playful Dude, al quarto il numero 4 di Macho Guest. Bene, con Salvo Gianni per parlare della vittoria di Surf Fortress che ha dimostrato di valere alla vittoria. Dopo tutti questi secondi finalmente siamo arrivati a questa vittoria, un grande cavallo e una grande monta. Era buona la forma e la compagnia che corse è stata? Sì, la forma era sprepitosa, viene da tre secondi, poi è stato ben montato e finalmente abbiamo vinto. Spinello con Nino, eccolo qui, maglietta bianca, ballone Maurizio con Hollywood Chic Snap con maglietta grigia, Luigi Giordano con Just Plain Einstein, maglietta blu, Oara con Antonino Gottuso, eccola qua, maglietta arancione, poi ancora Orso con Giuseppe Emmolo, eccolo qua, rosso, Emanuele Delizia con Cherie, maglietta bianca, maniche gialle, maglietta bianca. Ok. Allora, giù velocemente con Murgo. Partiti, sono partiti i cavalli quarter horse, dal centro pista, sembra scattare Luigi Giordano con Just Play Einstein, ancora le due magliette bianche, dal centro ci prova a mantenere la sua distanza, Maurizio Vallone, ma è sicuramente già leader, è avanti Luigi Giordano insieme a Rocco Spinello e a Emanuele Delizia. Ora devi vedere tra loro due chi è scattare la sua distanza. Bene, quindi, dunque è andata anche la seconda, particolarmente sentita dopo due partenze false, eccolo qua, la vittoria di Just Play Einstein con Luigi Giordano, vince facile questa eliminatoria, ed è uno dei possibili protagonisti delle semifinali di domani, poi subito dietro Nino con Rocco Spinello e ancora Sherry con Emanuele Delizia, anzi al contrario, prima Emanuele Delizia e poi Rocco Spinello. Dunque Luigi Giordano, maglietta blu e le due bianche. E andiamo alla quarta corsa del premio Memorial Daniela Ratti, a ricordo di una grandissima appassionata che è legata non soltanto al mondo hippico, ma anche a Siracusa, lascia dopo cinque anni il conforto soprattutto dei cari, ma anche degli amici siracusani. Una condizionata alla ricorda, 1700 metri in pista grande, da condividere con cavalli di tre anni, e sono otto al via. Partiti, i protagonisti del Daniela Ratti, edizione 2019, con Principe Azzurro, che passa al comando dal lato interno, nei confronti di Every Promise, quindi a largo Blue Shamrock, per linee interne anche Coach Me Softly, e lungo lo steccato si muove Desan, ancora Nonno Alfonso Heroic, a chiudere il gruppo Le Strayed, con i cavalli che vanno oltre la metà della retta opposta alle tribù, ed è Principe Azzurro, a condurre nei confronti di Blue Shamrock, il favorito che viaggia all'esterno, terzo staziona Every Promise, per linee interne si inserisce Coach Me Softly, ancora il compagno di scuderia a fianco Heroic, quindi Nonno Alfonso, dall'esterno progredisce Le Strayed, quindi il gruppo è chiuso da Desan, quando siamo già in piegata, con il gruppo allungato, Principe Azzurro, che va sempre a condurre, nei confronti del favorito che viaggia sempre dall'esterno, insiste Blue Shamrock, per linee interne Le Strayed, lungo lo steccato, viaggia anche Every Promise, quindi avanza anche Heroic, con il gruppo chiuso da Desan, si completa la piegata, si fa ingresso in retta di arrivo, Principe Azzurro, ancora il leggero vantaggio, ci prova Every Promise, per linee interne, mette in mano la frusta Federico Bossa, al centro piste si presenta bene Blue Shamrock, a largo viaggia Le Strayed, quindi ancora il numero 4 di Heroic, quando siamo a metà della retta di arrivo, con Le Strayed richiesto da Giuseppe Cannarella, che adesso è al comando, ci prova e non demorde Blue Shamrock, a largo anche Heroic, quindi lungo lo steccato, Every Promise, Principe Azzurro, si va nella fase finale, con Le Strayed, che ha preso il tempo a tutti, e viene a risolvere il Daniela Ratti, nei confronti di Blue Shamrock, quindi Heroic, Every Promise, giunti vicino sul traguardo, successo quindi per Le Strayed, alla prima uscita sul tracciato, soggetto che viene da contesti esteri, e viene a imporsi in maniera agevole, con Giuseppe Cannarella, che festeggia così questo bel successo, alla prima uscita, 8,42, quota ghiotta, al totalizzatore, Le Strayed che si impone sul favorito Blue Shamrock, quindi 4 di Heroic, Every Promise, e Desan. Questo l'arrivo del Daniela Ratti, quinta edizione, condizionata per tre anni, e allora, successo confermato per Le Strayed, attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, per il momento la linea può tornare alla regia. Andiamo con la premiazione del Memorial Daniela Ratti, che è stata vinta dal numero 5 di Le Strayed, è la prima qui a Siracusa, il team Carmelo Cannarella, Cannavo e Giuseppe Cannarella in cabina di regia, strappiamo subito l'intervista a Giuseppe, per come è andata questa prima, così tanto emozionante. Sì, perché un cavallo è stato comprato in famiglia, avevamo solo paura del carattere del cavallo, però ha dimostrato che supera anche il carattere in corsa. Ha esultato Mr. Cannavo, perché diceva dobbiamo vedere l'adattabilità, è stata ottima? No, effettivamente noi il cavallo ce l'aspettavamo, faceva questa prestazione, però purtroppo questa è una pista in cui se non si adatti non è facile correre in questa pista. Fortunatamente si è adattato e il cavallo ci ha fatto vedere le prestazioni che noi ci aspettavamo. Grandi speranze allora. Speriamo, dai. Alla prima. Andiamo a premiare, perché oggi abbiamo i familiari di Daniela Ratti, grande appassionata di Ippica, grande appassionata di Siracusa, nostra amica siracusana, manca da 5 anni. Allora, il generale Isakoff, Nicolai Isakoff, che è anche vicepresidente dell'Unione Ippica del Mediterraneo, va a premiare l'allenatore Giuseppe Cannavo, Sebastiano Cannavo, che ha magistralmente preparato l'estrade, arrivato qui a Siracusa. Il marito della signora Daniela Ratti, invece, il dottor Consonni, Antonio Consonni, premia il fantino Giuseppe Cannarella. Mentre il dirigente del Mipaf, il dottor di Genova, premia il proprietario, ritira il premio Giuseppe, che è anche il figlio del proprietario, Cannarella Carmelo. Due parole d'obbligo per ricordare anche l'importanza di questa premiazione, perché le premiazioni danno applauso a chi veramente vince, a chi veramente si mobilita, quante ore di lavoro c'è dietro per arrivare su una vittoria, ma questa premiazione ha un sapore anche particolare, perché va a ricordo della Daniela, sì, che era legatissimo all'Ippica e anche a Siracusa. Certo, soprattutto all'Ippica di Siracusa, perché anche quando non stava più bene, parlando di questo ipodromo, si illuminava. Dunque, vedeva in questo luogo un luogo di felicità, vissuto col marito, tutti e due molto appassionati di Ippica, e dunque è per questo motivo che noi si intende continuare a ricordare la sua figura in questo bellissimo impianto e penso che anche per l'anno che viene noi riproporremo un memorial. Grazie, ringraziamo il cugino di Daniela Ratti, Francesco Ratti, perché è di importanza, è un memorial che non si spegne, perché non si spegne mai quella che è la passione e ricordo anche qui a Siracusa di Daniela. Grazie mille anche per le foto di Rito e rimandiamo la linea alla regia. Bene, andiamo alla quinta corsa, il premio Camigliatello, abbinata alla seconda tris nazionale, si corre sui 1800 metri in pista sabbia con cavalli di tre anni e oltre, sono ben 11 i soggetti avversari al via. Forex che completa lo schieramento di partenza, si aprono le gabbie, parte il ritardo Forex, partiti, protagonisti di questo premio Camigliatello. Fase di studio, questo che vede adesso Vettori Lachie, viaggiare in prima linea il Decap, quindi dall'esterno c'è Quicksilver, quindi Ace to Pesca, ancora Tew Bezley, Stay Strong con il gruppo allungato, chiuso da Cool Grey, con i cavalli che completano la prima pregata e allora si affronta la retta opposta, sta alle tribune con Quicksilver che conduce nei confronti di Vettori Lachie, quindi il Decap, New Idiabolik, questi tre primi lungo lo steccato, avanza Forex per linee interne, c'è Nana Imo, ancora a largo Ace to Pesca, Tew Bezley, Stay Strong, quindi sopra in furia, è a contatto, Cool Grey, quando i cavalli vanno al completamento della retta opposta, e allora così si affronta la seconda piegata, con Quicksilver, quindi avvicinato sempre da Vettori Lachie dall'esterno, ancora per linee interne, avanza il Decap, ancora New Idiabolik, sopra in furia, a largo di tutti Stay Strong, con il gruppo che si presenta in retta di arrivo, con Forex in leggero vantaggio, per linee interne avanza sopra in furia, quindi il numero nove di Vettori Lachie, ancora c'è il Decap, per linee interne cerca di avanzare Cool Grey, lungo lo steccato ci prova Vettori Lachie, siamo a metà della retta d'arrivo, con Sopran Furia che è passata in vantaggio, Sopran Furia che cerca di allungare, ed è Sopran Furia che viene facile al bersaglio, nei confronti di Hill de Cap, quindi Vettori Lachie, New Idiabolik, è stupesca, successo per Sopran Furia, Sopran Furia, Pasquale Borrelli al bersaglio 14 e 77, la quota del vincente, portacolori di Jonathan Abela, il training di Vincenzo Messina, in sella Pasquale Borrelli, che vola facile sul traguardo, nei confronti di Hill de Cap, quindi Vettori Lachie, ancora Vettori Lachie, e quindi è stupesca, e poi il numero 11 di New Idiabolik, successo quindi a quota ghiotta per Sopran Furia, con Pasquale Borrelli, gli andiamo a fare i complimenti a Sopran Furia, e al suo team con l'allenatore Messina, allenatore sicuramente Sopran Furia, ha un pochino sbalordito anche gli scommettitori, non ci aspettavamo tanto buon allenamento, No, il cavallo ha avuto un po' un periodo che non è stato bene, stava bene, ma non stava bene, oggi finalmente ha trovato la sua giornata, la sua categoria, la sua distanza, e il suo fantino soprattutto, perché Pasquale Borrelli oggi è riuscito a fare una pennellata, diciamo. Bene, quindi è tanto tanto contento, adesso Sopran Furia si è inserito in una categoria comunque importante, quindi ha dimostrato le vere condizioni. Ma secondo me, come ho visto oggi, credo che possa ritornare di nuovo ai suoi livelli. E allora li presentiamo con il colore celeste Massimo Vallone su Mr. Prince Away, con il colore rosso Garofalo Nunzio su Iris, poi c'è Bordellino naturalmente, dai un saluto anche a Salvo Burgo, e ancora con la maglietta blu, Placido Navarria su Mr. con il verde Giuseppe Cassiba su Bonità, bacio per il pubblico, e invece con il giallo abbiamo Marino Tindaro con Backsmart Dash, e ancora, basta, vi ho finito, eccolo qui, l'arancione, l'arancione di Costanzo Zammataro con Bert. Complimenti a tutti, in bocca al lupo, comportatevi bene alla partenza di questi 400 metri, e adesso aspettiamo dunque soltanto la loro preparazione. Partiti, partiti adesso l'ultima eliminatoria con il rosso di Iris, che prova ad andare avanti, ma c'è il giallo di Bartsmart, che sembra avere la meglio su tutti, e Marino Tindaro, Marino Tindaro che fa il vuoto, Marino Tindaro con il suo Bart, che va a segno, mentre dietro c'è Bonita con il verde, e ancora l'arancione di Bert, intanto è vittoria per Marino Tindaro e Backsmart Dash. Marino Tindaro vola rispetto agli altri, Backsmart Dash. Marino Tindaro, Marino Tindaro. Con Backsmart Dash, poi verde e arancione successivamente, quindi Giuseppe Cassiba con Bonita, e Costanzo Zammattaro con Bert. Bene dunque andiamo a guardare invece quella che sarà la sesta corsa dedicata all'IPI, che è il premio Duke of Marmalade, un handicap con 1200 metri da affrontare in pista, piccole, cavalli di tre anni e oltre, sono tutti otto al via, non corre il numero tre di Peppe Island. Partiti! Protagonisti del premio Duke of Marmalade, con T4 Tango subito al comando, ma insediato dall'esterno da Prezel Logic, che adesso passa al comando, a largo galop a Funky Warm, quindi T4 Tango che scende in terza posizione, ancora Sambuco, ai fianchi Geraldine, sulla scia Leo Salsim Common Black, con il gruppo chiuso da San Giorgio Cross, gruppo che affronta così la piegata, ed è presa in logic, insediata dall'esterno da Funky Warm, quindi terza in corda, T4 Tango per linee interne, Geraldine a largo, c'è Leo Salsim, ancora Common Black, ai fianchi San Giorgio Cross, e chiude il gruppetto Sambuco, con il gruppo compatto, che si presenta in retta di arrivo, ancora in vantaggio, Prezel Logic attaccato da T4 Tango, che insiste e tende a passare, ancora qualcosa di vantaggio per Prezel Logic, non ci sta T4 Tango, che adesso passa al comando, quindi Common Black, ha più staccato Sambuco, Geraldine e gli altri, si va nella fase finale con T4 Tango, T4 Tango per il tris di successi di Giuseppe Cannarella, 3,97 la quota di T4 Tango, che viene a imporsi, ne vediamo le immagini della nostra regia, viene a imporsi su Prezel Logic, quindi al terzo posto, Common Black. Successo per T4 Tango, dicevo, Gioacchino guida ai colori, Sebastiano Cannavò al training, Giuseppe Cannarella, che sigla anche questo handicap, a quota di 3,97, e fa tris in giornata. T4 Tango, quindi per un ordine numerico ufficioso, che vede al primo posto il numero 4 di T4 Tango, al secondo posto il numero 2 di Prezel Logic, al terzo posto il numero 6 di Common Black, quindi il numero 7 di Sambuco. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, linea che torna alla regia. Bene, siamo al Tondino, con il festeggiamento di T4 Tango, che sicuramente era dato in miglioramento, siamo con Giuseppe Cannarella, che peraltro oggi ne vinte già tre. Guarda il cavallo ha due prestazioni un po' brutte, steduto incondizionato, sul terreno molto allendato, un cavallo che fa bene i terreni buoni, l'ultima volta sfortunato, stamattina è sfortunato e ha vinto. Bene, un cavallo in forma, ma anche tu in forma, oggi 3 su 3, insomma, bello. Ma grazie a tutta la scuderia in forma, soprattutto. Grazie. 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 sentiamo il giudice sono in partenza i quarter horse per l'ultima Murgo cerca di metterli in linea partiti vediamo chi fra sembra in avanti il verde di Fabio Emmolo prova da dietro Gottuso a superarlo e battaglia vera sale anche il celeste di Salvatore bella macina Salvatore bella macina Edemolo Salvatore bella macina Salvatore bella macina Salvatore bella macina quindi il celeste di Salvatore bella macina a chiudere la seconda giornata del meeting internazionale del galoppo che avrà il suo clou ricordo proprio giorno 8 dicembre è la settima corsa il premio Swing Fire una corsa abbinata alla Tris quartet quintet 1400 metri in pista piccola da affrontare con i cavalli di tre anni e oltre non corre il numero uno di Brinkstar si va agli ordini dello starter partiti i protagonisti del premio Swing Fire la Tris quartet quintet con Wild Acclaim che di forza passa al comando nei confronti di Sea Shunter quindi ancora Babelito Nonno Aurelio e via via tutti gli altri con il gruppo chiuso da My Man con i cavalli che affrontano l'ultima parte della retta opposta alle tribune con Wild Acclaim che in curva si presenta in vantaggio nei confronti di Babelito quindi Sea Shunter ancora Nonno Aurelio e via via gli altri quando si affronta così la piegata il gruppo allungato capeggiato sempre da Wild Acclaim che in chiara evidenza si presenta in retta d'arrivo Wild Acclaim quindi in vantaggio all'inseguimento Babelito per linee interne ancora Sea Shunter quindi Nonno Aurelio a largo avanza Zelur cerco un varco anche Ormix siamo a metà della retta d'arrivo con Wild Acclaim ancora da solo al comando rilancia la rimonta Sea Shunter dal centropista Nonno Aurelio anche Ormix quindi Zelur si va nella fase finale con Wild Acclaim che respinge Sea Shunter quindi Wild Acclaim respinge Sea Shunter al terzo posto dovrebbe essere il numero 5 di Ormix rivediamo gli ultimi metri di gara con Wild Acclaim che dice no a Sea Shunter quindi Ormix ancora Nonno Aurelio e Zelur a completare il Quintè quindi My Man e via via tutti gli altri poker in giornata per Giuseppe Cannarella e il training Sebastiano Cannabò a a a a a a a a Grazie a tutti.